buongiorno a tutti saluta siamo in direzione giavera no siamo a giavera in realtà siamo un po persi nelle colline ma il navigatore si salverà forse ora investiamo questo non lo ridico no non lo dico eccolo è lui la bike esperienza indimenticabile siamo arrivati ce l'abbiamo fatta proxie e abbiamo anche il casco nuovo che scopriremo insieme e oggi lo useremo per la prima volta mamma mia batteria scarica ha 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 dove cavolo sei fresh ciao 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 Grazie a tutti. Bene, allora, prima entrata finita, la pista è veramente bella, siamo a Giavera del Montello, una delle piste più belle d'Italia, o no? No, è veramente una pista bellissima, una volta facevano gare di campionato mondiale e è veramente una pista bellissima, naturale, come quella di una volta. Come vedete la moto è un po' infangata. La zona dentro la valle è in ombra e quindi è tutto ghiacciato e pian piano si sta smollando e quindi c'è un po' di acqua in pista, però è veramente bellissima. Abbiamo fatto un turno così un po' tranquillo per vedere e poi rientriamo. Fede, impressioni a caldo sulla pista? Una bomba. Da paura. E BJ il numero uno. BJ sta scattando un po' di foto. Fede, fai video. E K? Uuuuh! Io numero uno! BJ impressioni a caldo. Ma ho ancora i brividi, non aggiungo altro. Se la facciamo a riprendere lo scatto, vediamo se riusciamo a riprendere lo scatto serio. Mamma mia! Yeah! Ciao. Ciao. Saluta. Comunque io d'amore. Ciao. Popolo di YouTube. Cosa che dicevo, Mattia? Oggi siamo a Javera. Oggi siamo a Javera in compagnia del nostro amico Mattia Guadagnonico. Dai, l'impernatore al sport del mondo. Eh, non so cosa dirti. L'impernatore al sport. Sì, l'impernatore al sport. Oh, è ora! Oh! Marini! Hai, da gete me! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Secoqo, quante cosa sarà però! abbiamo anche un ospite speciale oggi qui con noi alle testa allora vi saluto dalla pista ma dal parco di giovane montello e qua perfetta adesso vedremo maurane campione 101 per sempre quindi adesso vediamo spettacolo puro spettacolo puro diet a dieta vediamo questa non ti vergogni no dentro vicino alla faccia che è più grande di te al furgone ciao proviamo fast love no 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 Tentativo numero 4 Tentativo numero 8000 Speriamo di finire un giro 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 Speriamo di finire Speriamo di finire Speriamo di finire un giro Divertente No ci siamo divertiti È stata una giornata solo per Stare in moto e divertirsi con un po' di compagnia e di amici Una pista bellissima Una bomba e ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao